ecco sono a 3.420 per ora come come punteggio ok 3.000 anche si 3.645 ok proviamo allora andiamo che poi comunque se devo essere onesto vedi è un po' truffaldino questo evento perché prima che il cubo si muova per la prima volta passano 10 secondi quindi in realtà cioè io 10 secondi praticamente li perdo di combattimento io in 10 secondi potrei fare tante cosette quindi è un po' è un po' truffaldina sta cosa io io farei una bella lettera di reclamo agli sviluppatori tanto qualsiasi reclamo è ben accetto su genshin ironia 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 questa ironia ve lo dico perché non sia mai sia mai a dire grittare una vuota butta neva però ok abbiamo fatto dei bei danni abbiamo fatto dei bei danni sì anche lui me li sta facendo finchia ma si alza subito c'è l'ipostatic quello classico ci sta un po' di più a terra questo subito si alza ma che spacchio è allora qui iniziamo ad avvicinarci porco giuda 46 secondi la vedo brutta oh questo è buono approfittiamone dai dai facciamolo fuori qua dai ok ok allora facciamo attenzione sì ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta 3645 buonissimo buonissimo direi assolutamente buonissimo direi assolutamente buonissimo